gentili telespettatori buona giornata in questi video precedenti abbiamo parlato dell'anti italianità giusto a sinistra va bene continuiamo sulla stessa sulla stessa sullo stesso filone conoscete tutti nanni moretti regista italiano si dice in un'intervista a el paese quindi un giornale straniero si è detto spaventato dal vento di destra in italia e poi riproverà anche la sinistra si prende a cura degli ultimi spaventato dal vento di destra in italia e tutto sto spavento viene da che cosa dal record di clandestini che sono arrivati è spaventato per questo o per che cosa perché la meloni abbassa le tasse fino a 35 mila euro mamma mia che spavento è proprio spaventatissimo nanni moretti poi dice ma la meloni mi dà fastidio urla così tanto in realtà la meloni da quando è premier non ha più urlato c'è stato un un comizio che ha fatto qualche tempo fa dove ha fatto un'urlatina ma realmente le urlate che faceva prima durante la campagna elettorale non le ha più fatte quindi forse nanni moretti è rimasto indietro di un anno così torna la carica contro la destra una lunga intervista ai microfoni di el paese per promuovere un suo lavoro che sarà poi nelle sale cinematografiche spagnole dal 15 settembre naturalmente lui parla del suo film però non interessa lui parlare del suo film parla della meloni pensate un po un regista che fa un'intervista per promuovere un suo film in spagna l'inter nell'intervista parla della meloni pensate un po che ossessione che hanno a sinistra su questa presidente del consiglio ed ecco la solita invettiva contro una destra rozza e aggressiva destra aggressiva ma voi avete visto questo governo aggressivo voi avete visto qualche politico di destra aggressivo magari qualche politico di destra ha detto qualche stupidaggine in questi mesi ne abbiamo commentate tante di stupidaggine ma da stupidaggine ad aggressivo c'è una bella differenza io non ho visto politici di destra aggressivi e non ho visto un governo rozzo fatemi un esempio di governo rozzo boh insomma sono parole avanvera ma lui moretti definisce meloni e salvini come gli eredi politici di berlusconi hanno vinto le elezioni perché hanno giocato con la paura sì hanno giocato con la paura e perché la destra sa semplificare i messaggi e già sappiamo che i messaggi semplici arrivano sempre agli elettori e poi il grande timore del regista c'è un vento di destra che è arrivato in italia che mi spaventa moltissimo ma non voglio parlare di politica sono solo un regista il vento di destra che spaventa moltissimo ma voi veramente lo dico proprio sinceramente ma voi vedete veramente un vento di destra che spaventa moltissimo o a sinistra fanno finta di essere spaventati perché non hanno altri argomenti se avessero degli argomenti parlerebbero di quelli non avendo argomenti fanno finta di essere spaventati dal governo perché è il vento di destra ma che cosa perché scusa parlami di sto vento così pauroso a che cosa ti riferisci eh no è il vento di destra sì ma parlami di sto vento è il vento no è un vento di destra che arriva da destra e fa paura perché è perché il vento fa ah ma in concreto il governo quale paura ti fa e ovviamente a sinistra non ti sanno rispondere ma il quotidiano spagnolo ricorda che circa vent'anni fa Moretti lasciò tutto per quasi due anni per promuovere il movimento dei girotondi dice l'ho fatto solo a causa della gigantesca anomalia che Silvio Berlusconi fosse primo ministro aveva il monopolio dell'informazione cosa che in una sana società democratica non sarebbe mai avvenuta l'attuale governo ha idee opposte alle mie ma l'anomalia che questo personaggio rappresentava con un impero mediatico coinvolto nella politica non viene riprodotta eh? cosa vuol dire? allora l'attuale governo ha idee opposte alle mie ok ma l'anomalia che questo personaggio rappresentava Berlusconi con un impero mediatico coinvolto nella politica non viene riprodotta cosa vuol dire non viene riprodotta appunto? non viene riprodotta la frase non ha senso alla fine non viene riprodotta l'anomalia non viene riprodotta? ma che vuol dire? boh allora sta di fatto che se vogliamo metterla giù seriamente anche questo governo avrebbe il controllo totale dell'informazione quasi perché si è impossessato della RAI c'è Forza Italia che ha Mediaset quindi tutta la RAI e tutta Mediaset ha una sola voce di destra come ai tempi di Berlusconi quindi come faceva paura Berlusconi dovrebbe far paura oggi anche la destra forse è questo il vento di destra di cui ha paura Moretti però attenzione abbiamo altri canali abbiamo la 7 che è completamente di sinistra sembra RAI 3 degli anni che furono quelli gloriosi quando apparteneva al partito comunista insomma sia Moretti che gli altri attenzione poi aggiunge non voglio usare questo aggettivo ma una gara di centrometri Berlusconi doveva percorrere solo circa 80 metri cosa che non succedeva alla Meloni ma non si preoccupi non ho alcuna considerazione per lei mi dà fastidio che urli così tanto non ha capito che non è più capo dell'opposizione ora deve guidare l'Italia ha vinto con promesse di ordine pubblico che ha capito che non si realizzeranno una cosa è fare campagna elettorale un'altra cosa è governare la sinistra non scomparirà ma dovrà cambiare per cominciare dovrà occuparsi di coloro che si trovano in fondo alla scala sociale cosa che spesso non fa i problemi di chi sta in basso i loro salari le periferie dove vivono e il lavoro che svolgono la sinistra dovrà ricordarsi perché è nata grazie a tutti e arrivederci a presto grazie a tutti grazie a tutti